La chiusura del centro di accoglienza straordinaria di Omegna, l'ultimo che era rimasto con 25 ospiti, richiedente asilo, ha suscitato anche qualche polemica al di là di qualche tono triunfalistico da parte di alcuni amministratori o di politici locali. Sì, la cosa che a noi ha colpito molto è sentire le dichiarazioni del sindaco di Fratelli d'Italia dove intanto si sono presi dei meriti che non hanno, perché la verità è che da oltre un anno quello che era una fase emergenziale si è chiusa grazie a delle politiche portate avanti dal vecchio governo di Minniti. Ma al di là di quello la cosa vergognosa è che si fanno carico e si fanno avanto di una situazione che oggettivamente deve portare a delle preoccupazioni sul territorio, perché quello che sta accadendo che cos'è? Che stiamo perdendo la possibilità di dare una mano a persone bisognose, perché è stato tolto quello che era il permesso umanitario e dalla mattina alla sera ci sono dei richiedenti asilio che sono trovati in mezzo a una strada. Questa è la verità. Quindi la chiusura dei due centri è legata a politiche di altro genere. Nel frattempo l'amministrazione, a partire da Fratelli d'Italia, dicono che non è un loro problema di quello che succederà domani, cioè il fatto che queste persone siano in mezzo a una strada e quindi si dovranno arrangiare. Dando anche una generalizzazione che non ci piace, che è quella di dire che tutte le cooperative hanno comunque lucrato su questi tipi di attività. Oltre a questo ci sono dei dati oggettivi che secondo noi vanno affrontati in maniera dirompente. Ne faccio degli esempi. La mensa sociale, che era un'occasione per integrare meglio quelle che erano le politiche comunitarie di questo Paese, è venuta meno e l'amministrazione ha detto che non se ne farà carico e non si interessa neanche del problema. Ecco, queste e altre dinamiche secondo noi devono far preoccupare quello che è la situazione del territorio e far pensare a chi di fatto amministra il territorio stesso.